Ciao a tutti, io sto bene, grazie. Durante questo momento di sosta ho guardato molto serie televisiva, mi ho allenato per tenermi in forma e ogni tanto ballavo un po' di musica del mio paese con mia moglie. È un momento difficile per tutti, purtroppo so che molta famiglia non è stato lavorando, fanno fatica ad arrivare a fine mese e questo mi dispiace davvero tantissimo, ma sono sicuro che presto ripartiremo e dopo la tempesta sempre, sempre viene il sole. Sono cresciuto admirando il Barcellona e di quella squadra i miei giocatori preferiti erano Ronaldinho e Iniesta, invece della mia nazionale ho sempre ammirato James Rodriguez. Mi ha colpito molto il livello generale del campionato, è molto alto e un'altra cosa che mi ha impressionato è la cura del dettaglio e della tattica. James è palcavo e sono potuti godere, anche il mio allenatore, Chonto Herrera, che è stato un grandissimo giocatore della Colombia. Oh gloria imaccessibile, oh jubilo inmortal, en surcos de dolores, il bien germina ya, il bien germina ya. Oh gloria imaccessibile, oh jubilo inmortal, en surcos de dolores, il bien germina ya. C'è solo la horrible noche, la libertà sublime, derrama las auroras de su invencible luz. Ho un buon rapporto con tutti, perché siamo un gruppo molto unito, ma essendo io colombiano ho legato molto anche per una questione di lingua, con tutti i sudamericani del gruppo, Pezzella, Cáceres e Pulga. Sono un gol sotto la curva a pie sole, spero di poter dimostrare presto il mio talento e rendere felice e orgoglioso di me, del club e dei tifosi. Forza Fiorentina, Aleviola!